Susie Cortez è una bellissima donna che di certo non passa inosservata perché? Perché ha un fisico importante, imponente e proprio per il fatto di avere un fisico imponente, importante e di avere molti muscoli disseminati lungo il suo corpo oltre a non passare inosservata è stata prima messa Olimpia a ricoprire il ruolo in questione e ha, pensate, fatto sapere a tutti che gli uomini quando escono con lei sono letteralmente intimoriti per via dei suoi muscoli infatti ha un fisico prorompente, delle gambe molto muscolose un bacino tonicissimo e lunghissimi capelli di colore nero, o meglio bruno tuttavia la donna è capace di sollevare addirittura 500 kg di massa insomma, non passa inosservata, è bella, è sexy, è affascinante eppure gli uomini quando la guardano hanno paura del suo corpo viene infatti vista come una donna dal corpo esageratamente muscoloso e proprio tutti questi muscoli fanno in modo che lei abbia dei problemi diciamo così, nell'avere un uomo, un compagno, un marito, un fidanzato, un padre vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi utenti di Youtube, iscrivetevi, sigla, commentate ciao